L'Empoli arriva a Tavagnacco e si porta a casa i tre punti vincendo per 3 a 1 con le reti della nostre numero 15 Gianni 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 e con la nostra anche numero 7 OC P7 la nostra Cecilia e a firmare il 3 a 1 la numero 16 Flaminia Simonetti E' partita con il 2 al 25 Norma G-Rotis Norma G-Rotis Catron si fa in contro Ancora Yolmant eccoci di giu... eeeh esplode a Zilli da casa c'è Giulia c'è Giulia a lei a lei a lei a lei a lei an a lei a lei